Buon mercoledì 22 febbraio a tutti, sono le 9.49 e siamo dal vivo sui mercati. Penso che l'allarme rosso dato ieri, relativamente proprio ad Axe e Mib, ma poi sono seguiti tutti gli altri mercati, fosse corretto, giusto? Abbiamo provato a fare un rimbalzo, non siamo andati da nessuna parte, siamo andati in lateralità per la buona parte del pomeriggio. Questa mattina abbiamo aperto e siamo sprofondati, semplicemente sprofondati. Per questo motivo facciamo un attimo di attenzione. Se da qui appunto fosse partito con quasi tutti i crismi, un nuovo settimanale e abbiamo almeno un discorso di tempo più che rispettato, perché ne bastavano 48 di barre, e qui siamo all'inizio di un ciclo settimanale che si è già tutto vincolato ribasso, e che sarebbe a 2, al terzo T-3 in partenza il quarto. Sappiamo che si può arrivare fino a 11. Seconda cosa, eccoci qua, 39 barre, inverso, quindi la centratura è corretta, mettiamoci anche qua. L'allarme dato ieri, come vedete, non è stato dato a caso. Ci sono determinate motivazioni per le quali appunto dagli swing ai volumi che si iniziavano a vedere, adesso vedremo se seguirà un rimbalzo di una certa entità, ma certamente ci sono facili accorgimenti per capire se sarà una trappola, tra virgolette, se ci sarà inversione come a gennaio oppure no. Ricordiamoci che di inverso abbiamo serenamente la condizione necessaria e sufficiente per aver chiuso un annuale a 131 giorni, sì, abbiamo anche a livello di altri cicli in qualche cosa che ci dica che purtroppo si possono anche non completare dei mensili interi, ma fare 21 giorni e poi invertire facendo quindi un trimestrale inverso che comunque ha superato le 48 barre? La risposta è sì. Questo è il modo più semplice per trarre in inganno chi magari all'inizio anche con la ciclica e si aspetta un completamento di tutto, ma, l'abbiamo già detto, il completamento può non arrivare e possiamo avere mensili da, anzi trimestrali scusate, da 48 barre, contate, ok, e inversione rispetto alla discesa che stavamo facendo da qui a giù. Quindi attenzione, perché adesso nel gruppo premium andremo a vedere quali altri swing stanno per violare, perché sappiamo già quale è stato violato, e non è soltanto quello di un T inverso, ok, è qualcosa di un po' più grosso, ma, come detto, lo swing è un allarme, è come qua, quando ho iniziato a dirvi guardate che si inverte forte, si è invertito, c'è stata una finta, poi si è di nuovo continuato a scendere, l'inversione c'è stata, e poi sono arrivati i volumi, contro però, e arrivando contro si è cambiata strada, quindi anche qui abbiamo già tre belle candele rosse, e due sono belle lunghe, swing violato, bisogna vedere che non si rallenti per poi rinvertire dall'altra parte, perché comunque abbiamo ancora un pochino di tempo rispetto alla durata massima assoluta di un annuale inverso, però, ok, era giusto ieri dare un allarme e fare la stessa identica cosa con bitcoin, perché, guarda caso, poi, nonostante il tentativo di risalita, con tre candele e un lap down, siamo sprofondati sotto il minimo di ieri, e potrebbe non essere l'undicesimo T-3, sarà semplice, se non torneremo sopra questo massimo su MIB, qui è partito un T settimanale tutto vincolato a ribasso, punto e fine del discorso, se non torniamo almeno qui sopra, e non dimostriamo di avere forza di rimbalzo, non andiamo da nessuna parte. Per oggi, quindi, cosa faremo? Tenderemo di vedere di che entità è il rimbalzo, qui difficilmente riusciremo ad avere le due condizioni per valutare una partenza di un nuovo T-3, un nuovo ciclo giornaliero, per il fatto che gli swing sono estremamente distanti, e succede quando si va in tendenza. In questo caso la tendenza sarebbe, con un bel death cross, grosso come una casa, di discesa. Per questo motivo, vediamo come rimbalza. Qui ha provato a fare un rimbalzo, è arrivato anche a fare qualcosa di decente, poi ha provato a scalare, e ci siamo svegliati con uno sprofondo, perché si fa più veloce a scendere che a salire. Lo sapete bene. Siamo sotto le medie mobili, siamo sotto l'accumo, siamo sotto tutto, siamo nel vuoto, sospesi nel vuoto, come appena finito di scrivere nel gruppo premium. Per quanto riguarda il DAX, eccoci qua. Qui il DAX, a parte che, ribadisco, dobbiamo andare a ricontrollare bene qui, ma abbiamo bisogno di una chiusura superiore a questa? No. Abbiamo questa, perfetta per il tempo puro, non ci serve altro, ok? Ma a parte quello, qui abbiamo già tutti i crismi, perché non si è partito un ottavo, un nono, un decimo, un t-3, ma perché si è partito già un nuovo T settimanale, inverso. E con una certa potenza. Per cui, inizio a segnarmelo, trasformarlo in qualche cosa di un pochino più grosso, lasciandoci una bella freccia, e dicendo, ok, sei iniziato, sta sparando in maniera interessante, e tutti i discorsi che ci siamo fatti, fino ad adesso, sul MIB, ok, a questo punto dobbiamo farceli anche sul DAX. Perché? Perché qui abbiamo un minimo, guardate che roba, a 15.246. Qui abbiamo fatto 48, e qui abbiamo fatto 47. Non 46, 47. Siamo a un pelo dal vincolare settimanale complessivamente a ribasso. E sapete che un settimanale può serenamente durare anche 11 t-3, anche se è già arrivata una durata media. Quindi anche in questo caso, dall'entità del rimbalzo, se non torneremo sopra questo massimo, o sopra questo massimo anche, adesso devo rifare determinati calcoli, e non partirà un nuovo settimanale. O se partirà, rischierà senza conferma di rivincolarsi a ribasso, se ci saranno sempre volumi. Per questo motivo, da adesso in avanti, continuiamo a fare molta attenzione a una partenza potenziale di annuale inverso, o di raccordo inverso tra due annuali inversi, quindi di grado t più 2 inverso, mensile inverso, e per sicurezza, facciamo una cosa, seguiamo, come abbiamo già fatto, passo a passo, perché così siamo arrivati a 10 operazioni in gain su 10 ieri. E poi ragioniamo di tutto il resto. Ok? Perché è importante, anzi l'altro ieri, scusate, perché è importante fare passo a passo ogni cosa. Capisco che sia goloso provare gli overnight, ma prima iniziamo a capire bene dove siamo arrivati e quali sono i rischi di rimanere short o tentare di rimanere long, o per un rimbalzo. Perché è sempre meglio essere prudenti che avventati. A volte l'avventatezza porta a gain straordinari, salvo poi riprendersi magari indietro tutto con gli interessi. Direi che è tutto, vi ringrazio per il vostro tempo, vi auguro una splenita giornata, la mia lo sarà sicuramente perché adesso ci si mette a ragionare su cosa sta succedendo e quindi inizia la giornata. Arrivederci!